Abbiamo girato tutto il giorno in moto sul lago d'Orta, il lago Maggiore Siamo saliti sul Mottarone per vedere il tramonto Qui è fantastico anche perché Alex, che è stato in moltissimi posti tutto il mondo, non è mai stato sul lago Maggiore Spero che gli piaccia perché lui ha girato tutto il mondo Grazie a tutti